Google ha annunciato che eliminerà gradualmente il tracciamento di annunci cross-up sugli smartphone Android per proteggere la privacy dei dati dei consumatori che utilizzano il suo sistema operativo. Attualmente alle persone che utilizzano dispositivi Android vengono assegnati ID speciali che gli inserzionisti utilizzano per creare un profilo comportamentale dell'utente e inviare poi annunci altamente mirati. Google eliminerà gradualmente questo sistema di identificazione e svilupperà un nuovo sistema pubblicitario incentrato sulla privacy che limiterà la condivisione dei dati degli utenti con terze parti. La tecnologia Wi-Fi entra nelle sale del Museo Barracco di Roma per offrire una fruizione arricchita da contenuti multimediali che viaggiano attraverso la luce e raggiungono gli smartphone dei visitatori. Una tecnologia basata sulla luce, come spiega Francesco Paolo Russo, founder e CEO di 2BSRL, che ha realizzato il progetto Wi-Fi, risultato tra i vincitori del bando della Regione Lazio e l'impresa Facultura. La tecnologia Wi-Fi funziona grazie alla modulazione della frequenza luminosa. Questo segnale riesce a essere letto dai dispositivi mobile, quindi dagli smartphone, tramite una fotocamera che legge questi segnali e li trasforma in contenuti e in informazioni. Sono state diffuse nuove immagini di Lego Star Wars, la saga degli Skywalker, che mostrano il dietro le quinte del videogioco in uscita ad aprile 2022. Nel videogame di TT Games ci sono tutti i personaggi principali della saga cinematografica ideata da George Lucas, che si annuncia il più completo dei giochi dedicati a Star Wars finora usciti, visto che contiene riferimenti ai nove film della serie. Nel gioco, che mantiene il tipico umorismo delle produzioni Lego ispirate ai film, una nuova visuale in terza persona, nuove meccaniche di combattimento e navicelle calta della saga dal Millennium Falcon ai cacciatai dell'Impero.